Yoga Festival Bimbi arriva al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ingresso da Via Olona, 6, sabato 12 e domenica 13 maggio con laboratori per bambini e adulti, a cura del centro Amamente e sotto la direzione scientifico-sanitaria della dottoressa Anna Laguzza, neuropsicologa dell'età evolutiva. In programma due giorni di attività, giochi, conferenze e laboratori. Per accedere prenotare sul sito www.yogafestival.it barra bimbi.